partiamo da una delle arterie pulsanti di napoli che sono i quartieri spagnoli qui gli artisti locali hanno realizzato tantissimi interventi circa 200 nell'ambito del progetto cuore spinato leggendo la descrizione del progetto sul sito degli artisti e ti consigliamo di farlo è estremamente interessante capire come tutto è iniziato per tre anni consecutivi nel cuore della scacchiera dei quartieri spagnoli hanno dipinto porte garage e muri partendo dagli edifici distrutti dal terremoto e mai ristrutturati dal primo intervento la gente dei quartieri spagnoli si accorta di quanto fosse bello avere sulle proprie mura di casa un disegno e così è esploso un effetto domino che li ha portati a dipingere per tre lunghi anni il legame che è nato tra gli abitanti dei quartieri spagnoli e gli artisti non è mai stato reso noto ma si può immaginare come in questo caso la pittura sia stata un tradunione tra le anime se vuoi immergerti nel labirinto delle opere di cuore spinato puoi iniziare la tua esplorazione da vico della tofa e via lungo trinità degli spagnoli mentre sul sito degli artisti trovi una mappa completa delle opere durante questa passeggiata ricorda di mantenere lo sguardo allenato perché i micro interventi sono tantissimi e raccontano tutti una storia sempre nei quartieri spagnoli in via emanuele d'edeo c'è una delle opere più intense di francisco bosoletti che si intitola iside ed è frutto di un viaggio alla scoperta della ricchezza umana storica ed artistica di questo luogo di napoli di fronte all'opera di bosoletti invece puoi vedere il maradona di mario filardi